Buonasera a tutti, intanto io se non vi offendete mi leverei la giacca che può aiutare a evitare il naufragio. Secondo devo dire che sono venuto qui perché questo qua è un festival serio e siccome c'era un discorso che mi stava molto a cuore, quello che farò questa sera, sul dibattito pubblico italiano, sul modo in cui ognuno di noi ogni giorno parla e si relaziona con gli altri. Ed è un discorso che secondo me è fondamentale oggi in Italia e ho pensato che questo qui era il posto giusto dove farlo. Perché? E non lo dico perché sono qui, perché potevo anche farà meno di venire, non avevo bisogno di dire qualcosa in cui non credevo. Questo qui è un festival che ha sempre cercato di far parlare delle persone che avevano delle cose interessanti da dire e che erano credibili per quello che dicevano. E allora ho pensato che era il posto giusto per parlare di testa di razionalità. Allora partirò da questo. Io penso che l'immagine migliore per descrivere lo stato del dibattito pubblico che c'è in Italia sia quello di una canzone di Di Andrè, le acciughe che fanno il pallone. Le acciughe fanno il pallone e gli spezzini lo sanno, i genovesi lo sanno, le acciughe fanno il pallone perché sono attratte dalla luce delle lampare. E quindi quando le lampare si accendono in mare le acciughe iniziano a radunarsi e il mare inizia a brillare, a lucicare e fanno questa grande palla che poi viene tirata su dalla rete. Sono attratte dalla luce, non riescono a farne a meno di venire in superficie. A me sembra che stia succedendo la stessa cosa nel nostro dibattito. Siamo tutti, chi più chi meno, ma irribilmente attratti dalla battuta, dall'immagine, dalla polemica di giornata. E andiamo tutti a fare un pallone col rischio di finire nella superficialità e di finire ogni giorno nella rete. Si insegue una luce, un'immagine, un'emozione e quello che io penso che è preoccupante è che si perde di vista il contesto in cui le cose accadono. Si smarrisce il senso generale delle cose, quello per cui è possibile mettere in fila le cose, tirare dei fili e capire perché una cosa accade. Partirò da un piccolo caso di cronaca, ma che se uno guarda i siti, internet, i social network, i giornali, in questi giorni, per esempio, per un paio di giorni ha tenuto banco. È un piccolo caso che uno potrebbe dire insignificante, ma che secondo me è illuminante del fenomeno dell'opinione pubblica delle acciughe. È del caso di Luciana Litizzetto e dei cento euro che ha donato alla lotta alla SLA. C'è questa immagine di Luciana Litizzetto che dona cento euro prima di versarsi come migliaia di altre persone un secchio di acqua gelata in testa. Lei fa vedere e dice dono cento euro, donate anche voi cento euro. Questo messaggio poteva essere letto in maniera molto lineare come un invito alle persone a donare, ma qualcuno, è bastato uno che partisse, e poi ne sono partiti dieci, cento, mille, diecimila, che hanno iniziato a dire vergognati con tutto quello che guadagni versi solo cento euro. Allora, ci sta e c'è sempre stato l'invettiva, lo sberleffo, la critica. Mica questo mi sconvolge. Il punto è che immediatamente il dibattito è diventato solo quella cosa. Su tutti i siti, tre giorni fa, qualunque sito italiano, voi apriste, aveva la foto della Litizzetto e c'era scritto polemiche, Litizzetto, dona solo cento euro quanto ne ha presi trecentomila al festival di Sanremo. Non c'è stata una sola voce, una sola persona, un solo giornalista che si sia preoccupato di grattare e di fare due lavori. Un lavoro di tipo informativo, di porsi un problema, una domanda, e un lavoro di tipo invece di buonsenso. Il buonsenso, però ogni tanto ormai richiamarsi al buonsenso è come dire è un po' passato di moda, ma il buonsenso avrebbe da dire beh, era in vacanza a casa sua, nessuno gli chiedeva di dare cento euro per la lotta alla SLA li ha dato. Io penso che se ognuno di quelli che l'ha insultata, perché poi il livello degli insulti a un certo punto è decollato, se per ogni insulto quella persona che l'ha insultato avesse versato cento euro probabilmente sarebbe stato fatto un miracolo nella raccolta fondi per la ricerca sulla SLA, ma questo non è accaduto perché tutti quelli che hanno insultato per i cento euro si sono ben guardati da versarne anche solo dieci. Il punto però è questo che vivendo nella stessa città della Litizzetto ho avuto modo più di una volta di incrociare iniziative importanti di beneficenza che lei organizza e sostiene a spese sue che come avrebbero detto i miei nonni la beneficenza si fa non si pubblicizza le fa in silenzio e una delle delle tante è di fronte al più grosso ospedale dei bambini che c'è a Torino ha messo in piedi una grande struttura di accoglienza per le famiglie dei bambini malati di tumori di leucemie per potergli dare anziché far stare i bambini e le famiglie in ospedale chi deve fare le cure possa avere un luogo dove stare. Ma cose grosse non da cento euro da centomila euro il problema è che non ha mai messo i manifesti di questo allora a me ha colpito io non ho sono uno dei pochi giornali che non ha pubblicato questa storia il primo giorno e quindi forse sbagliando non l'ho fatta neanche il secondo giorno sulla stampa perché mi sembrava di fare quello che alzava il dito e doveva spiegare e dare lezioni però poi vale la pena rifletterci sopra cioè allora un vero dibattito è un dibattito in cui ci si alza e si dice ha dato cento euro sono pochi sono tanti ma è una che fa beneficenza invece no ma che cos'è che colpisce che tutti sono stati attratti e ritorno alle acciughe con la luce delle lampare sono stati attratti in maniera fortissima da questa immagine di lei con cento euro e da questo slogan facile corrivo ne guadagni tanti e ne metti solo cento vergognati solo cento vergognati e che cosa è successo è successo che perfino i titoli dei giornali seri il giorno dopo erano la rete due punti litizzetto vergognati non riusciamo a sottrarci ma i giornalisti ma i lettori i cittadini perché io ho sentito delle persone insospettabili serie intelligenti che mi hanno detto che schifo la litizzetto solo cento euro ma non 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 gli veniva in mente boh ma magari ne versa altri centomila in un altro modo magari che ne sai delle sue storie familiari che ne sai di come vive di che cosa fa niente era quello era è così facile è così facile adeguarsi allo sfregio allo sberleffo che è diventato irresistibile è diventato irresistibile e tutti ne sono vittime e invece bisognerebbe avere la pazienza di capire ma la pazienza vuole tempo vuole attenzione vuole fatica prendo un altro esempio di una persona che non ha goduto e non gode le simpatie della maggioranza degli italiani ma la prendo volutamente perché prendere un esempio e difendere Papa Francesco è facile e quindi tutti direbbero beh certo invece prendiamo Elsa Fornero che è un po' più difficile da difendere ma a me piacciono le cose complicate perché se no se venivo qua per farvi Papa Francesco stavo a casa allora naturalmente non sono venuto per parlare degli esodati delle pensioni di quelle robelliche un tipo di difesa di questo tipo non è non avrei le capacità e le forze e penso che sarebbe inutile c'è però una cosa che mi è rimasta impressa a un certo punto nella campagna contro la Fornero qualunque cosa lei facesse era da mettere all'indice e da indicare ce n'è una un giorno ho visto prima su dei siti poi su un paio di giornali a cui piace tutti i giorni fare in prima pagina una bella polemica di pancia il dramma che poi ho visto che queste cose sdoganate finiscono ovunque una polemica che diceva vergogna la Fornero è andata a comprarsi una borsa con la scorta e da qui ma una deve andare a comprarsi una borsa con la scorta ma che vergogna ma c'è bisogno della scorta per comprarsi una borsa posta così la situazione uno dice beh certo non c'è mica bisogno di comprarsi una borsa con la scorta ma una persona non intelligente sufficientemente intelligente dovrebbe semplicemente girare la cosa e dire ma perché ma la Fornero ha la scorta sì ma la scorta ce l'ha tipo solo quando vai in ufficio o la scorta ce l'ha sempre no la Fornero la scorta ce l'ha sempre appunto perché non era proprio una delle persone più amate nel paese allora nel momento in cui ha la scorta è naturale che qualunque cosa faccia va a fare la spesa va a prendere il nipotino all'asilo si compra la borsa oppure va dal parrucchiere ci deve andare con la scorta certo la frase va dal parrucchiere con la scorta suona male ma cosa deve fare non può più andare dal parrucchiere deve stare reclusa perché ha la scorta però questo se voi guardate moltiplicatelo e fateci caso lo potete applicare a centinaia di esempi che potete trovare in giro il problema è che in questi discorsi adesso sono partito da esempi un po' piccoli poi vado su cose un po' più sostanziali le ho fatti perché ci vedete benissimo quel meccanismo in cui si tende a diciamola così non da festival della mente si tende a sbaccare e uno butta all'ammasso il proprio cervello perché segue la bellezza di una battuta sfregiante e di dire perché devo fare la fatica di dire che a me la fornero non piace perché quella riforma delle pensioni non ha calcolato tutti quegli esodati ha lasciato della gente in un limbo perché devo fare questa fatica devo argomentare è molto più facile dire che schifo quella va a farsi i capelli con la scorta a lei basta le ho tagliato le gambe che me ne frega è sufficiente così però capite che tipo di dibattito pubblico abbiamo nel momento in cui questo è il livello delle cose e io penso che questo tipo di messaggio semplificato e indigesto avveleni proprio il dibattito io mi ero appreso degli appunti molto più seri il professore che dicevano il dibattito pubblico italiano è da alcuni anni soffocato dall'emotività e dal sensazionalismo la razionalità è stata messa in disparte e le conseguenze si leggono prima di tutto nella nostra informazione e nella qualità del nostro ragionare politico in tempi in cui i social network sono capaci di imprimere grandi accelerazioni alla discussione e in cui le immagini prevalgono sulle parole è diventato urgente e necessario proporre con convinzione dibattiti laici e razionali e dare un maggiore valore alle parole che si usano due storie degli ultimi mesi sono illuminanti del prevalere di paure e irrazionalità il dibattito scatenato dall'operazione Mare Nostrum con l'arrivo dal mare di decine di migliaia ormai abbiamo superato abbondantemente le centomila persone dal nord Africa e il caso Stamina Stamina è la presunta terapia per le malattie neurodegenerative rivelatasi ahimè una gigantesca truffa tutte e due queste storie sono stati capaci di scatenare campagne molto aggressive di associazioni partiti politici semplici cittadini in alcuni momenti è stato quasi impossibile ragionare e permettere il più elementare confronto delle idee allora parto dalla dalla storia di Stamina la storia di Stamina è una storia illuminante per molto tempo non si è riusciti a ragionare minimamente su cosa fosse Stamina perché eravamo tutti sotto il ricatto dell'emozione e del dolore per settimane per mesi si è parlato di Stamina io per interesse mio e del giornale ho commissionato ben due sondaggi in un anno su che cosa pensasse le persone di Stamina e la maggior parte delle persone a prescindere senza sapere di cosa fosse questa cura dicevano che la cura andava somministrata perché tale era stato l'impatto dell'emozione soprattutto dei servizi televisivi in questo caso delle Iene che raccontavano come che mettevano inquadravano bambini malati in stadi finali di malattie neurodegenerative e gli si diceva che esisteva una possibile cura chiamata Stamina fatta con cellule staminali che poteva provare a salvarli allora se la storia viene posta come è stata posta in maniera anche aggressiva poi nelle manifestazioni nelle polemiche nei dibattiti nelle urla ma voi a un bambino che sta morendo gli volete impedire di curarsi di provare a curarsi allora sfido a trovare una persona che dica sì glielo voglio impedire di curarsi è un mostro tutti dicono si arrendono e dicono sì tale era l'impatto emotivo che il senato italiano inizialmente all'unanimità aveva dato il via libera alle sperimentazioni su Stamina una legge tutto un dibattito poi è stato tutto poi cambiato alla camera ma io guardavo questa cosa e ero incuriosito ma come molti altri giornali e giornalisti non osavo muovermi perché ne capivo bene i contorni e poi pensavo se dici A ti arriva un'accettata tra capo e collo che dice vergogna tu vuoi far morire i bambini allora però ho preso sono andato a trovare la neosenatrice a vita Elena Cataneo che è una studiosa serie di questi temi ho preso tre giornalisti tra i migliori della mia redazione siamo andati in quattro a trovarle e gli abbiamo detto ci fa una lezione anche di quattro ore e ci spiega se questa cura può stare in piedi o non può stare in piedi lei ci ha fatto una spiegazione in cui si capiva che che si stava pensando di curare qualche cosa di cui oggi non conosciamo la soluzione con una spese di sperimentazione di preparato non solo lontanissimo dalla praticabilità ma anche pericoloso e inutilizzabile però ho fatto questo per avere un background e poi abbiamo incominciato a fare ricerca parallelamente all'inchiesta giudiziaria a Torino indagava Guariniello a fare della ricerca per vedere ma chi è questo Vannoni che fa stamina cerchiamo di capire in questa ricerca abbiamo incontrato delle cose allucinanti cioè abbiamo scoperto per esempio che c'era l'assistente la storica assistente di Vannoni che lavorava con lui dieci anni fa che raccontava che Vannoni aveva un gruppo che faceva ricerche di consulenza per la regione Piemonte e il tipo di ricerche uno pensa a ricerche quindi faceva ricerche mediche no il tipo di ricerche l'ultima ricerca commissionata alla regione Piemonte era la percezione dei cittadini piemontesi sul valore della cultura questo era il tipo di ricerca Vannoni faceva questo poi aveva conosciuto un medico non so più se Estone Lettone bielorusso che diceva di lavorare sulle staminali e che gli aveva detto le staminali sono la grande nuova frontiera allora lui anziché proporre una ricerca sulla cultura era tornato alla carica con la regione Piemonte per questo è adesso sotto processo se non sbaglio non vorrei dire un errore tecnico ma per truffa per tentata truffa alla regione propose alla regione no ma io potrei invece portarvi dell'altro potrei fare delle ricerche sull'utilizzo delle cellule staminali nella cura delle malattie neurodegenerative passato da una cosa a un'altra con lo stesso staff il suo staff racconta oggi ci ha raccontato era allucinato perché diceva ma cosa ne sa questo non è un medico non ha mai studiato questo ma perché facciamo questo e lui aveva spiegato allora che faceva questo perché era garanzia di un futuro di soldi adesso ve la faccio breve capito questo abbiamo iniziato a fare una serie di inchieste di articoli in cui spiegavamo state attenti questa storia è una grande truffa allora però e torno al nocciolo della questione di cui parliamo oggi il punto era che di fronte a ogni nostra uscita i critici i commenti i blog le iene tutti gli altri dicevano ah eccoli quelli che vogliono impedire che si curino i bambini allora io a un certo punto ho pensato come si esce dalla trappola emozionale perché le trappole emozionali è difficile smontarle immediatamente con un discorso razionale perché se ha uno che ti grida come tu non vuoi curare a un bambino ma vuoi dare la cura al bambino o lo vuoi lasciare morire se tu gli rispondi beh però dobbiamo pensare che quel tipo di staminali non funziona non cura hai perso hai perso completamente allora a un certo punto ho pensato no ecco la risposta una risposta di tipo emozionale ma contrario è no io ti rispondo è giusto che un bambino malato e la sua famiglia vengano truffati derubati e che si sia profitti della loro sofferenza a questo punto come dire si va in pareggio è giusto che tu vai da una famiglia e gli dici tuo figlio sta male ma io ho una cura sperimentale però versami 25 mila euro e poi altri 25 mila se vuoi che provo a curare tuo figlio e poi fai un'infusione dolorosa al figlio che finora che non è mai stato provato che servisse a qualche cosa allora in questo modo tu rimetti in un certo senso in pareggio le cose e poi a quel punto però bisogna avere il coraggio di ricominciare a fare dei discorsi che parlino di competenze che parlino di serietà che rimettano al centro il valore delle persone perché il problema in questo dibattito semplificato e superficiale è che l'esperienza sembra non valere più niente tutto è uguale anzi c'è quasi un sospetto per la competenza c'è una vignetta pubblicata qualche anno fa sul sul New Yorker meravigliosa quando iniziava a esserci questa deriva per cui gli esperti boh sì ma io non mi fido di un esperto ho sentito uno per la strada che ha detto un'altra cosa e vale uguale che si vede un medico alla scrivania e di fronte un paziente arrabbiato che gli dice glielo devo dire io ho trovato una diagnosi completamente differenza dalla sua da qualcuno che si chiama Pukipu su rispostemediche punto com il dottor Pukipu ecco per me il dottor Pukipu in questi anni Pukipu è il simbolo di tutte queste cose perché tu hai il tu dici ma no però stai parlando di cancro al seno c'è Veronesi che ha studiato tutta la vita il cancro al seno e qualcuno ti dice no ma no Veronesi sbaglia e chi lo dice guarda su Inter ho trovato che c'è un medico a Teramo che dice che Veronesi ha completamente cannato e tu dici sì ma no ma poi Veronesi amico delle case farmaceutiche chissà da chi ha preso i fondi niente Veronesi nel giro di 15 secondi è buttato via e vale la qualunque e allora è il trionfo del dottor Pukipu allora io però mi sono chiesto e così nel dibattito a un certo punto nel dibattito su stamina dicevano la loro i comici i giornalisti i personaggi televisivi e ahimè la magistratura i tar i quali sono intervenuti dicendo in questo momento sono sostanzialmente divisi equamente a metà tra chi ha autorizzato la cura e chi l'ha bloccata non per colpa della magistratura diciamo tecnicamente interamente perché non essendoci oggi varate delle regole dei protocolli su stamina dal ministero della salute non c'è un qualche cosa a cui riferirsi ma questo era semplicemente per dovere di cronaca il problema è che di tutto questo parlavano questi ma in Italia abbiamo i massimi esperti mondiali sulle cellule staminali ogni volta che hanno provato a parlare sono stati aggrediti sbeffeggiati uno aveva studiato in America ah no ma quello figurati big pharma servo degli americani ma no ma questo è uno che ha 500 pubblicazioni è considerato il più grande che c'è un giorno ho parlato con questo professor bianco che è un luminare delle staminali e lui mi dice niente il nostro dibattito pubblico è fregato perché ormai aspettate che recupero la frase che aveva detto che era bellissima mi diceva la domanda sarebbe semplicissima ma voi vi fareste operare al cervello da un archeologo anche il migliore il più illustre quello che ha fatto più scoperte più scavi ma voi vi fareste operare al cervello e allora perché se parliamo di cellule staminali io devo valere di meno di uno che dice no ma quello guarda quello lì è un giornalista bravissimo è un comico bravissimo è uno che fa benissimo cabaret ha detto che le staminali che il metodo stamina funziona ma vale più di lui dice abbiamo perso il senso della competenza io pensavo un'altra cosa siamo arrivati a un punto per cui se c'è un terremoto e crollano le case probabilmente ci sono anche responsabilità degli architetti responsabilità degli ingegneri dei geometri di chi ha fatto i piani regolatori ma e che quindi vanno cercate le responsabilità processate fatto tutto quello che bisogna fare ma poi dobbiamo pensare che siccome ci sono degli architetti e degli ingegneri che in quel caso hanno fallito che le nuove case le dobbiamo far ricostruire diciamo chi sono le due persone migliori di questa comunità ah c'è il panettiere o il pasticcere è una persona veramente per bene e il parroco è una persona di grande cuore e quindi affidiamo a loro la ricostruzione delle nostre case che facciano loro i progetti ecco io vi faccio questi esempi perché secondo me io spero che vi restino dentro e che la prima volta che vi trovate di fronte a queste cose vi venga da pensare ma forse possiamo ancora provare a pensare per cinque minuti che l'esperienza sia ancora un valore che avere studiato una vita delle cose sia ancora un valore e non che tutto sia uguale e tutto sia uniformabile se noi pensiamo a queste derive emozionali poi ne abbiamo viste tante anche fuori dai temi di cui parlavo io penso per esempio all'elezione del presidente della Repubblica lo scorso anno se uno la guarda con un po' di distanza oggi ha veramente la sensazione che ci sia stato un momento di sbandamento dell'opinione pubblica e della politica come raramente c'è stato alla fine si è chiesto a un uomo di 88 anni che aveva già fatto gli scatoloni e che non ha mai più riportato niente al Quirinale perché i libri di Giorgio Napolitano non sono mai tornati al Quirinale neanche i suoi vestiti lui quando cambia la stagione va a casa e prende un vestito ma non vuole riportare dentro niente perché dice che a 89 anni non è che uno può continuare a stare lì e progettare di starci ancora allora che cosa è successo è successo che una serie di elezioni sono andate a vuoto ma non era la prima volta nella storia della Repubblica che accadeva sono successe anche cose più drammatiche è successo anche che c'erano le stragi mentre si votava il Presidente della Repubblica la differenza è stata che è incominciata una campagna soprattutto sui social network una campagna cioè su Facebook su Twitter sui blog una campagna in cui sembrava che il fatto che non si votasse se non si riuscisse a far passare il Presidente della Repubblica nelle prime votazioni fosse sostanzialmente la dissoluzione dello Stato e non c'è stata capacità da parte di nessuno di avere la freddezza di dire momento signore ma la Costituzione prevede che si facciano un tot numero di votazioni a maggioranza qualificata poi si passerà a maggioranza semplice manteniamo i nervi saldi spegniamo i telefonini c'è un bel modo di dire avete presente che un tempo si diceva i bambini che continuavano a giocare a pallone in tipo in piazza e continuavano a centrare i vetri le vetrine a un certo punto qualcuno usciva da qualche negozio e gridava te lo buco quel pallone adesso secondo me bisognerebbe dire a certi politici o a certi giornalisti te lo buco quel Twitter cioè o la finisci o ti fermi un momento o io te lo buco allora secondo me il Parlamento avrebbe dovuto spegnere i telefoni avrebbe dovuto spegnere i telefoni e staccarsi dai social network per 48 72 ore e forse sarebbe riuscito a eleggere con più serenità un Presidente della Repubblica senza farsi prendere da quest'onda emotiva perché io penso che le macerie e l'avvelenamento che lascia poi l'incapacità di avere una testa fredda e calma poi sia pesante e grave sempre nelle cose emozionali oggi beh non c'è bisogno che faccio nomi ma c'è una corrente politica importante che fa molta presa su tutti i cittadini me compreso ma penso la gran parte di chi è qui in questo tendone oggi che dibatte che si focalizza tutto sui soldi su quanto si è speso per fare una cosa quanto si è speso quanto guadagna salvo pensare che questo vale per quasi tutti meno che per i calciatori le veline e gli allenatori di calcio se un allenatore di calcio prende 5 milioni l'anno ci sta se un un manager pubblico ne prende 300 mila è un ladro è uno schifo allora badate io non sono venuto qui a dirvi no bisogna dare i soldi quanti si vuole eccetera eccetera ma a dirvi questo siamo tutti come le acciughe incantati da quel dato tipo quello guadagna 240 mila euro vergogna e non ci chiediamo che competenze ha che capacità e che differenza può fare nelle nostre vite perché guardate noi possiamo anche pensare di pagare un sindaco gli diamo mille euro al mese a un sindaco di una grande città gli diamo mille euro al mese e diciamo perché devi prendere di più prendi mille euro al mese e quello ci soddisfa dice prende mille euro al mese non ne prende centomila ma voi pensate che la differenza nell'amministrazione di una città sia fatta da quello o è fatta dalle scelte fatte o non fatte da quel sindaco la vera differenza sta nelle scelte fatte o non fatte perché quelle varranno milioni di euro saranno in grado di definire le vostre vite io a me viene da dire lo dico brutalmente a me non me ne frega niente se un sindaco è bravo che prenda trecentomila euro ma però quel sindaco mi deve garantire che gli asili funzionino che i posti ai nidi ci siano che gli autobus ci siano quello mi deve garantire e invece siamo tutti incantati dal continuare a dire a pensare quanto guadagna tagliamogli lo stipendio allora non faccio una polemica come dire ad persona ma il movimento 5 stelle ha il presidente della commissione di vigilanza Rai allora ogni volta che Grillo ne parla non dice mai ecco lui come presidente della commissione di vigilanza è stato capace di fare la differenza in questo in questo in questo in questo ha salvato questo abbiamo cambiato questo indirizzo abbiamo fatto questo ma quando andò da Bruno Vespa disse pensate lui aveva trentamila euro di rimborsi per il suo staff e invece ha speso centocinquantotto euro capite la differenza ho capito ma io voglio sapere ma la Rai spende milioni di euro ma a me alla fine tra centocinquantottottomila e trenta euro sono contento che lo Stato abbia risparmiato ventinove mila e rotti euro ma è stato capace io non vi dico se è stato capace o no non lo so non mi interessa ma è il punto è il metodo che mi interessa è stato capace non è stato capace ha fatto bene ha fatto fare cose che hanno migliorato la televisione italiana ha impedito scempi che avrebbero peggiorato e avrebbero buttato via milioni di euro questo è il problema questo è quello che va chiesto ai politici agli amministratori non può essere tutto risolto semplicemente nelle etichette quella va a farci i cappelli con la scorta quell'altra sventola i cento euro quello ha risparmiato tot soldi perché tutto questo alla fine sì è facile ma non ci aiuta a uscire dalla crisi no non ci aiuta a uscire dalla crisi né dalla crisi economica né dalla crisi politica e nemmeno come dire dalla crisi del dibattito italiano perché se tutto fosse basato sul prezzo allora dovremmo tranquillamente dire che va benissimo comprare dei vini a un euro al litro fatti con le bustine distribuiti in cartone e che non ha nessun valore il fatto che ci sia della gente che taglia grappolo dopo grappolo e fa dei dei brunelli o dei barolo ehm di grandissima qualità e che hanno cent'anni di tradizione tutto questo non vale più niente se guardiamo solo al fattore del numero del prezzo di quella luce allora siamo sostanzialmente mi viene da dire siamo fregati allora io penso questo io penso che si debba tornare a dare un senso alle parole e un giusto valore alle cose e resistere alla tentazione di farsi prendere dalla semplificazione dallo sberleffo è un lavoro che devono fare i giornali ma è un lavoro che devono fare anche i cittadini quello ogni tanto di dire prima di di abbracciare l'ultima delle semplificazioni quello è un cretino perché quell'altro vergogna quell'altro mi indigno per i miei cinque minuti mattutini per quell'altro motivo di fermarsi e dire ma è così coltivate il dubbio coltivate i dubbi è la cosa più sana che si può fare in questo tempo in questo periodo non capisco dai gesti se ho finito il tempo se c'è ancora dieci minuti cinque quattro o due allora dico ancora una cosa da che cosa naturalmente ho pensato da che cosa nasce poi tutto questo nasce certamente dalla diffusione delle tecnologie da intra e dal web che di per sé non è né buono né cattivo anzi tendenzialmente io direi che la tecnologia come dire questa diffusione della tecnologia è buona perché io sto fermo a casa mia e oggi riesco ad arrivare a raccogliere informazioni a sapere cose a trovare persone a vedere immagini che non sarei mai riuscito pure che avrei avuto di cui avrei avuto bisogno di avere un sacco di tempo per cercarla andare in archivi viaggiare e quindi secondo me è potenzialmente positiva il problema è che cosa ci si mette dentro perché anche questa cosa di che dicevo della dello sfregio non è che è nuovo c'è sempre stato non è che noi siamo una società che prima era una società come dire bella pulita serena non so ci abbiamo avuto per esempio i nostri anni settanta che non sono stati proprio una passeggiata però tanti fenomeni che accadevano erano fenomeni limitati a gruppi limitati a campagne di stampa limitati a nicchie non avevano una presa totale sulla società le tecnologie hanno fatto sì che ogni messaggio che gli viene messo dentro che diventa digitale si diffonde in maniera velocissima ovunque ha una velocità spesso inaspettata è una velocità che spesso non ci dà il tempo di riflettere e di digerire allora io qui dico chiudo raccontando una cosa con cui inizierò un discorso che farò a un festival della comunicazione a Camogli lo devo dire perché c'è una persona che organizza il festival della comunicazione a Camogli che quando scenderò mi dirò ma questa cosa la dovevi dire a Camogli perché l'hai già detta a Sarzana allora io mi giustifico in anticipo quando è successo questo questo cambio del nostro modo di percepire queste cose è successo quando l'informazione è diventata un'informazione a nastro continuo 24 ore su 24 in cui l'emozione è diventata prevalente l'Italia è un paese che ne ha avuto un assaggio ed è stato il giorno in cui un bambino Alfredino Rampi cadde in un in un pozzo fuori Roma vi ricordate l'agonia di questo bambino e vi ricordate una cosa la prima diretta televisiva a reti unificate della RAI l'arrivo del Presidente della Repubblica il microfono calato nel pozzo per sentire la voce del bambino fu uno spettacolo angosciante e terribile e tutta l'Italia rimase attaccata a quella televisione la cosa fu la cosa finì male vi ricordate la gente che si calò che cercò di recuperare il bambino il bambino morì Alfredino morì la cosa fu talmente sconvolgente e la RAI si rese conto che aveva per le mani qualche cosa che aveva un potere di attrazione immenso perché aveva fatto un audience totale incalcolabile tutti guardavano quella cosa chiunque stava guardando e seguendo questa cosa di Alfredino ma si rese conto anche che l'emozione e lo shock di una cosa così era ingestibile per cui se voi guardate succede quella cosa e poi un tipo di diretta di questo tipo non accade più viene messa nel congelatore anzi vi dirò di più i nastri di Alfredino oggi sono nelle teche della RAI ma non possono essere più mostrati sono sotto sequestro perché i familiari nel decimo anniversario si rivolsero alla magistratura e chiesero il diritto all'oblio e il diritto anche a non rivedere ogni anno di nuovo quelle immagini e quei suoni un magistrato gli ha dato ragione e quelle cassette per la storia sono lì ma non possono essere trasmesse gli hanno messo dei sigilli per arrivare a un fatto di questo tipo meno drammatico bisogna passare negli Stati Uniti quando le televisioni americane ma l'allora emergente CNN fecero la diretta della fuga di O.J. Simpson campione di football americano nero accusato di avere ucciso la moglie che sulla sua macchina un pick up se non sbaglio un Ford Bronco scappava scappava si fa per dire perché andava a una velocità nei limiti delle velocità dell'autostrada americana scappava su un'autostrada americana dietro di sé aveva una, due poi alla fine 50, 100 macchine della polizia ma nessuno sparava perché come dire era come se su quella macchina ci fosse stata non lo so Del Piero e allora immaginate quale poliziotto pensa di sparare a Del Piero che poi facciamo che Del Piero non era colpevole e lo ha ammazzato vallo a spiegare all'opinione pubblica allora nessuno faceva niente lo seguivano aspettando non lo so a un certo punto finisse la benzina a forza di fare autostrada avanti e indietro cosa successe quel giorno che le televisioni i network californiani presero per la prima volta in maniera vera e efficace gli elicotteri gli misero i cameraman sopra e incominciarono a volare sopra questo corteo immenso questa fuga rallentatore e iniziarono a darla in diretta e la CNN incominciò a fare le trasmissioni in cui c'era un angolo dello schermo in cui era perennemente inquadrata dall'alto questa macchina lì le televisioni americane capirono la grandezza di questo tipo di dirette e l'emozione che possono dare e da lì siamo arrivati alla televisione 24 ore al giorno 7 giorni su 7 perché oggi io ho due figlie di 7 anni e mezzo ho provato un giorno a spiegargli che un tempo quando io ero bambino e mi ammalavo dovevo aspettare mezzogiorno perché iniziasse i programmi televisivi e loro non riescono a capire dicevano ma in che senso cioè la televisione dove andava cioè papà la televisione c'è sempre gli dicevano no tu accendevi e non c'era ma tipo che canale non c'era perché loro sono abituati che ci sono 100 canali gli dicevano no i canali erano meno ma non c'era niente e cosa vedevate eh grigio cioè come ma perché tipo il televisore tuo era rotto no cioè non c'era la televisione la televisione incominciava e finiva per loro il concetto che la televisione incomincia e finisce è un concetto che non è comprensibile come non è comprensibile che tu non puoi vedere quello che vuoi allora che vuoi io mi ricordo che quando avevano tipo tre anni e mezzo e volevano vedere questa roba che tutti quelli che hanno un figlio oggi conoscono che è Peppa Pig volevano vedere Peppa Pig e mi dicevano vediamo Peppa Pig e facevano serie dovevano vedere la televisione cercavamo Peppa Pig alla televisione e noi dicevano non c'è non c'è papà vediamo Peppa Pig allora ci sarà un DVD oppure lo guardiamo sull'iPad cioè Peppa Pig c'è sempre non è io avevo sulla tv svizzera alle sette e un quarto del sabato c'era scaccia pensieri che era un programma di cartoni animati se io combinavo qualcosa durante la settimana andavo in castigo e saltavo scaccia pensieri per cui per me dei cartoni animati se ne parlava dopo quattordici giorni invece adesso è tutto un demand siamo abituati ad avere le cose quando vogliamo e questo ha rotto la dieta tradizionale la dieta tradizionale informativa che secondo me è paragonabile e identicamente sovrapponibile alla dieta quella del cibo cioè prima noi vivevamo e avevamo la colazione il pranzo e la cena la colazione era la radio erano i gr la gente la mattina sentiva i gr o mentre c'era la colazione o mentre andava in macchina o mentre faceva la barba o in qualunque momento e quello li ascoltavi dall'inizio alla fine e quello era la colazione perché ti serviva informazione con aperta chiusa tutti i servizi avevi i tuoi contesti poi compravi il giornale e il giornale era il pranzo perché? perché tutti leggevano i giornali più volte li leggevano un po' la mattina poi li riprendevano dopo pranzo poi li leggevano magari sull'autobus quando tornavano a casa e spesso li riprendevano in mano la sera e quindi che cosa facevano? era e prendevano il primo il secondo come mangiavano i miei nonni il primo il secondo il contorno il formaggio e la frutta adesso nessuno fa a parte che nessuno fa più un pranzo così ma nessuno legge con questo metodo tutto un giornale e poi c'era la cena la cena erano i telegiornali cioè gli italiani avevano l'appuntamento alle otto con il telegiornale che si guardava dall'inizio alla fine tra un momento e l'altro uno aveva tempo di digerire quello che aveva sentito di digerirlo di elaborarlo di pensarci di ragionare se è bene o male e poi si informava degli sviluppi ma non aveva continuamente cioè non esisteva che alle tre del pomeriggio nella tv del pomeriggio si aggiornava ogni venti minuti l'ultimo delitto l'ultima strage l'ultimo terremoto eccetera eccetera non esisteva questo non esisteva la mattina la mattina da Raffaella si contavano i ceci non si contavano mica le teste mozzate in Iraq è completamente diverso oggi invece tu apri la mattina hai la strage in Iraq e poi hai la mamma che ha ucciso un figlio in Italia ritorni al pomeriggio c'hai di nuovo gli sviluppi su quello hai un bombardamento di emozioni continuo e allora io penso che noi siamo passati da una dieta fatta di colazione pranzo e cena a una sorta di happy hour dell'informazione cioè un eterno aperitivo uno di quegli aperitivi come si chiamano a Torino lo chiamano l'aperitivo alla milanese a Milano lo chiamano l'aperitivo e basta cioè in cui si sbocconcella di tutto infatti c'è un verbo che oggi si usa nel giornalismo americano che è oggi l'informazione si sbocconcella cioè la gente prende un frittino un piccolo piattino di pasta una bruschetta un'oliva scolana un pezzo di sushi due patatine quattro noccioline lo spritz e prende questa cosa e sostanzialmente noi oggi ci nutriamo di informazioni in questo modo però è chiaro che tu non stai lì a guardare che qualità è quell'oliva o quelle patatine come quando mangiavi un primo tu dicevi questa pasta asciutta è buona o no a casa mia quando si mangiava la pasta asciutta alla fine si diceva a mia madre ah buona questa pasta un po' sciapa ah potevi metterci il basilico cioè c'era un commento ma nessuno commenta la roba che spiluzzica all'aperitivo perché non è previsto è della roba semplicemente riempitiva così che fa colore e ugualmente il tipo di informazione che riceviamo non è che quando uno legge un articolo dall'inizio alla fine o ascolta un servizio dall'inizio alla fine allora alla fine può dire bello brutto interessante quando invece gli arrivano pillole bombardamenti in cui gli si dice la litizzetta è una cretina a lei non è che dice bello brutto interessante non interessante si prende questo pezzettino di sushi lo butta giù e tutto il resto allora se voi fate una sera di una cena al posto della cena fate un aperitivo va bene vi siete divertiti due sere vi siete divertiti ma anche un po' stufati al terzo giorno avete una terribile acidità di stomaco allora io penso che il problema sia che il dibattito pubblico italiano e torno all'inizio ho finito sia preda di una totale acidità di stomaco il dibattito a forza di sbocconcellare cose completamente diverse tra loro senza contesto senza chiavi di lettura chiare abbia finito per avere per per inaccidirsi abbia finito per perdersi allora io penso che si debba tornare come dire a un tipo di dibattito in cui più sano ve lo chiudo così io non non mi illudo che improvvisamente eh dobbiamo tornare affare lunghe articolesse pensose eccetera eccetera quelle sono ribarrano delle nicchie quella stagione è finita inutile il mondo è cambiato però non sta scritto da nessuna parte che al bancone di un aperitivo si debbano servire dei piattini che fanno schifo si possono anche fare delle cose di qualità si possono servire delle cose in cui dentro c'è cura c'è intelligenza ci sono prodotti genuini e allora io penso che l'informazione debba avere la forza di tornare a proporre cose che hanno questi caratteri e penso però che i lettori debbano eh tornare a chiedere questo e a resistere alla tentazione dell'indignazione che dura 15 secondi dell'indignazione gratuita e io penso che per i giornalisti e per i cittadini e per i lettori non sia un obbligo finire come le acciughe che fanno il pallone grazie 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 a tutti buona serata